Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità anche nel video di oggi, quanti leaks che sono stati spoilerati dai grandi leakers mondiali inseriti proprio nelle ultime ore nei nostri codici sorgenti. Di Fortnite, oramai lo sapete, si parla di robot, si parla di Stranger Things, sono questi gli argomenti caldi dei giorni che stiamo vivendo in Fortnite e anche ovviamente l'evento del mostro che mi raccomando non dimenticatevi perché c'è un mostro enorme intorno alla mappa sott'acqua che gira con tanto di castello di picco polare sulla schiena. Nel video di oggi ragazzi infatti vedremo alcune novità riguardanti proprio il robot, quello che sta accadendo, come sta accadendo e cosa dovremo aspettarci da quanto sta succedendo all'ex impianto a pressione. Avanti ancora con i gameplay direttamente dai codici sorgenti, vedremo proprio le due skin di Stranger Things in game in delle pose molto molto curiose e ovviamente un bel po' di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però ragazzi volevo ringraziare di cuore tutti coloro che supportano il channel utilizzando il codice creator XIUDERONE. Grazie di cuore ragazzi per sostenerlo, mi raccomando eh, mandatemi su Instagram le vostre foto, le vostre storie, quando scioppazzate di prepotenza che io vi riposto il più possibile. E ovviamente non dimenticate di iscrivervi al channel e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima ce l'ho, oggi è bella, oggi è bella ragazzi. C'ho una domandina che a un po' di voi farà rosicare eh ragazzi, fa anche a me far rosicare. Però ve la voglio fare perché è super interessante. Quale skin vorresti che invece ti manca? Dai, una skin che ti manca nell'armadietto e che a tutti i costi vorresti avere o rimpiangi di non avere. La mia ragazzi è l'Aerial Assault, mi piace davvero tantissimo. Non l'ho scioppato nella season 1 e purtroppo mi pento ancora oggi di non averlo fatto. E' veramente tanta tanta roba, mi raccomando i vostri commenti proprio qua sotto. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance! Andiamo subito subito ragazzi a vedere il post pubblicato ufficialmente sulla pagina Twitter di Fortnite che annuncia ovviamente la collaborazione con Stranger Things. Uscita la terza serie ieri il 4 luglio, giorno anche in cui sono uscite le skin dedicate all'indipendenza americana. Skin che erano già presenti in realtà l'anno scorso e sono super contento si siano riproposte. Con Fortnite Stranger Things ragazzi il signor Donato Mostarda ovviamente non perde occasione di modificare la sua location nella propria pagina personale di Twitter scrivendo Somewhere Strange della stranezza da qualche parte se volessimo tradurlo in italiani facendo un chiaro riferimento ovviamente a ciò che sta accadendo e a ciò che accadrà ai grandi magazzini. Sì perché dovrebbe succedere anche un crossover event ai magazzini ragazzi questi portali non sono lì per caso non sappiamo quanto rimarranno soprattutto ma aspettiamoci di vedere qualcosa di interessante in game. Per il momento però ragazzi eccola qua una delle due skin spoilerazzate, liccate insomma trovate nei codici sorgenti il Demo Gorgo. Ve lo voglio far vedere però ragazzi in game e come vi avevo anticipato eccolo di qua ragazzi con tanto di balletto. È uguale a quello che vi avevo detto. Non è male raga. Non è male. Diciamo che diciamo che non è bruttissima come skin ragazzi. Non è una delle skin più belle in assoluto che abbia mai visto ma non è neanche così brutta. Credo che parta con la testa chiusa e poi si apra. Probabilmente sarà una skin reattiva a parer mio ma oltre al Demo Gorgon c'è anche la skin di Chief Hooper quindi dello sceriffo. In poche parole ragazzi eccola qua questa skin spoilerata a parer mio più bella di quella che abbiamo appena visto e anche qui un piccolo gameplay per voi ragazzi per farvela vedere in game. Molto molto simpatico anche lui che si balla il balletto caso della skin Iconic. Ci sta. È proprio uno sceriffo. È ripreso veramente molto bene da quanto è la serie. Intanto ci rivediamo anche il Demo Gorgone che molto contento se la balla di prepotenza anche lui e tra l'altro ragazzi con queste skin non sono proprio super belle però non fanno neanche cagare. Adesso diciamoci la verità. Arriva anche una novità molto interessante che è questa cosa. Xuder. Minchia mi fai vedere i quadrati. Sì ragazzi. Avete presente quando c'è stata la collaborazione di Fortnite X Avengers? Ok. Avete presente che le skin e gli oggetti avevano una colorazione diversa rispetto a quelle conosciute? Ecco ragazzi. Sembrerebbe che questo verdino sia il background delle skin dell'evento Fortnite Stranger Things. Quindi una rarità nuova che qua chiamano Untable. Quindi non ottenibile il nome della rarità. Cioè una rarità che è esclusiva solo per queste skin. Staremo a vedere ovviamente non appena arriveranno in game se ci abbiamo preso o se invece no. Ma andiamo avanti ragazzi con gli argomenti e parliamo anche dell'evento del robot. E' stato aggiunto nell'ultime, nelle ultime ore, è una stringa, è stata aggiunta una stringa di codice. Vi ricordate i tre poster che vi avevo mostrato? Duck and hover, take the ground e we can build. Ecco ragazzi. Arriva anche la stringa. We want you. Ed insieme alla stringa anche un'immagine. Eccola qua ragazzi. Vi ricordate per chi avesse visto i video ve l'avevo detto che sarebbe stata una skin a tema dello zio Sam? Io avevo azzardato a dire che poteva essere il Cuddle Team Leader, l'orsacchiotto. Invece è semplicemente la skin di default che vi ricorda di arruolarvi. A che cosa? Non si sa ragazzi. Però questa è l'immagine ufficiale presente nei codici sorgenti. Andiamo a rivedere velocemente anche i tre poster. Duck and hover, take the high ground e we can build it. E tutti e tre sono ovviamente relativi a quello che sta succedendo all'impianto a pressione. Oramai chiamata la fabbrica dei robot. Facciamoci un giro molto veloce ragazzi alla fabbrica dei robot. Eccola qua. Come vedete il pezzo alto sopra il ginocchio della gamba. O sotto il ginocchio aspetta. Non me lo ricordo. Ma quello che ci interessa è il robottino che lo sta costruendo. Quei robot ragazzi sono gli stessi che ci danno il loot extra nei punti caldi. Hanno però preso un nome diverso. Si chiamano warbot, una cosa del genere. Come vedete sono lì di prepotenza che vanno a lavorare sul robot. E che quindi lo costruiscono ragazzi. Probabilmente dobbiamo aspettare di vederne altri. E sicuramente delle novità arriveranno. Come vi anticipavo ecco anche delle immagini inserite. Probabilmente in questo weekend vedremo un nuovo pezzo di robot. Sto parlando ovviamente della gamba destra. E per darvi un'idea ragazzi dell'altezza di dove siamo arrivati adesso. Guardate questa immagine. Diciamo che il castello di picco polare. Ed era veramente altissimo ragazzi. Arriva al ginocchio del robot. Quindi mamma mia. Non vediamo l'ora di vedere il torso e tutto. Altri file relativi all'evento. Ma ne parleremo con calma domani. E insomma ragazzi. Non vediamo l'ora di vedere questo evento di Fortnite Stranger Things. Questo robot finito. E tutto quello che ci porterà ovviamente alla season numero 10. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo alle 8 in live. Ciao!